Sono Fiorenza, mi piace usare questi complementi di arredo in stile coloniale per l'ambientazione della casa. Una tavola con un miscuglio, diciamo, imprevedibile di elementi, una tovaglia decorata e ricamata, dei piatti con dei motivi di design, non c'entrano nulla in effetti insieme, però cosa succede? Stranamente per una alchimia misteriosa il tutto funziona. Io sono Rubina, adoro fare foto, in vacanza, alle feste in generale, sono quella che porta sempre la macchina fotografica. Le molchine di pane con un po' d'olio extravergine come antipasto è un po' scarno. Buono, eccoci, buono, però. Pane, olio ed ecologia per una serata genuina ma elegante, in cui si unirà l'amore per la cucina e la passione per le produzioni locali senza dimenticare il pianeta su cui viviamo. Bello, bravo. Voglio vedere il primo però adesso. Grazie.